Per la gioia immensa di tifosi e allenatori si è finalmente concluso il calciomercato e per quanto si sembrasse che lo spezia calcio fosse partito con il freno a mano tirato, invece proprio allo scadere dell'ora ha dimostrato di essersi mosso con oculatezza, attenzione ai bilanci, con pianificazione, lungimiranza e raziocinio. Quindi al termine di questa sessione di mercato attraverso questo video commentiamo insieme le entrate e le uscite della società bianca. Andando reparto per reparto anziché in ordine cronologico per entrate ed uscite partiamo dai portieri. Infortunato Crespi, promosso Mascardi e dato in prestito Playa, sono entrati nelle file degli aquilotti Moham Falou Sarra e Stefano Gori. E noi a tempo debito, nella lista, nella playlist, nella raccolta a proposito del calciomercato che trovate sul canale, gli abbiamo introdotti così. È arrivato Sarra! C'ha proprio il ruggito nel nome, no? Mi carico una marea a giudicare dalle prime immagini che abbiamo visto arrivare dal ritiro. Il giocatore Mohamadou Sarra, classe 97, è appunto in arrivo in prestito con obbligo di riscatto dalla Cremonese, dove l'anno scorso ha totalizzato 17 presenze, dopo essere diventato il portiere titolare. Però è anche reduce da un grave infortunio, quindi diciamo che è un'altra scommessa stile Provedel, stile Drongoski. E quindi speriamo che possa rimettersi al meglio ed esplodere a fronte del suo potenziale di cui si parla. Quindi ben arrivato caro Sarra e avanti tutta! Ed ecco un altro uomo d'angelo, ovvero di d'angelo. Sì, perché a difesa dei pali, in supporto di Mohamadou Sarra, è arrivato in prestito dalla Juventus, classe 1996, Stefano Gori. Stefano Gori che era già stato allenato dal nostro mister Luca D'Angelo quando militava nel Pisa. Quindi, ben arrivato Stefano e avanti tutta! Senza tralasciare che sono partiti Zot, il che non mi dispiace particolarmente perché in MMA Piesu non mi ha mai dato sicurezza, e è stato svincolato il giovane Zofko. Per quanto riguarda i nuovi aquilotti a difesa della porta, Sarra è apparso essere molto più convincente di quanto ovviamente si era detto in ebon, in ebon, in ebon, in ebon, ma ha fatto il suo a Salerno, rigori a parte, secondo alcuni. Poi, secondo me, vado bene anche sui rigori perché uno quasi l'ha preso. Poi, come uno si gestisce sulla riga in determinate situazioni, lascia un po' il tempo che trova perché il rigore non lo para il portiere. Il rigore lo può solo sbagliare chi lo calcia. Vedi, Nagy. Detto questo, per quanto riguarda Sarra è stato convincente sia a Salerno, nei 90 minuti disputati, a Pisa nella prima di campionato, presente a Spezia con il Frosinone nella prima partita in casa, e ha fatto la differenza a Cosenza, col Cosenza, dove siamo riusciti a portare a casa un pareggio prezioso, benché le aquile meritassero più dei lupi. Per quanto riguarda invece Gori, è arrivato ieri sera, noi stiamo registrando oggi che è il 31 agosto, quindi non ne so ancora niente. C'era anche Drongoski, che è stata una di quelle eccessioni a fronte dell'ingaggio di lusso e perché Erfante e Negravia Ciovogia, di rimanere in maglia bianca, e quindi, chiuso il lungo già capitolo portieri, passiamo all'analisi dei movimenti nella retroguardia aquilotta. La difesa. La difesa è stato il reparto più sfoltito dell'intera rosa in questa più recente sessione di mercato. Sono arrivati dei rinforzi dalla primavera, su tutti Mattia Benvenuto, e Tommaso Raineri. Tommaso Raineri poi dato in prestito, guardando gli appunti, al Sestri Levante. Sono invece stati ceduti in prestito altri aquilotti arrivati dalla primavera nella stagione scorsa, quali Serpe e Cugnata, entrambi al Provercelli, Serpe in prestito con opzione di riscatto. Mentre Cugnata prestito secco e quindi ritornerà al termine della stagione. Sono invece partiti, per non tornare, molto probabilmente anche al di là di quali siano gli accorti poi legali, Bastoni, che è la fine del percorso in maglia bianca, Alcesena e quindi lo vedremo all'Alberto Picco nella quarta giornata di campionato, Mool, che finalmente proprio ieri sera in chiusura del mercato ha trovato l'accordo per levarsi dal belino, proprio scusate il francesismo, Holm, Motigno, un altro amatissimo, e Nicolau, che ha risultato essere una preziosa merce di scambio per l'arrivo di Aurelio e Soleri. E di queste tecniche creative di scambio, appunto, di negoziazione, parleremo nel prosieguo di questo video. Adesso passiamo al centrocampo. Anche in questo reparto la società bianca è andata a monetizzare alcuni dei prodotti del vivaio spezzino, come è normale che sia. Sono partiti Nicolò Pietra, che è andato al Pontedera, e poi è partito Leonardo Pedicillo, che è andato al Messina, entrambi a titolo definitivo. Sono partiti inoltre Sipot, per tanti una liberazione, ma è soltanto partito in prestito, in prestito secco al GAC, tra l'altro un giocatore che ha del potenziale, secondo me non ha mai giocato con continuità. Mi direte voi, ma se non ha giocato con continuità è perché non meritava di rinvenire da questa continuità, tra l'altro sotto la gestione di diversi allenatori. Però staremo a vedere. Nel frattempo è in prestito e poi dovrebbe rientrare. E Daniele Verde invece è giunta al termine la sua storia in maglia bianca e non ne sono troppo rattristato perché c'era da limitare gli ingaggi. È un giocatore altalenante per quanto tecnico e tutto il resto, però insomma me ne faccio una ragione. Per quanto riguarda invece gli arrivi, sono arrivati nagi già dall'anno scorso ma riscattato quest'anno e questa è stata una di quelle decisioni, uno di quei movimenti che potenzialmente è costato il posto a Massia, esonerato, non esonerato, allontanato diciamo proprio nel corso di questa più recente sessione di mercato conclusasi ieri sera il 30 agosto a mezzanotte. Vignali è arrivato dal Como nella stagione scorsa ma riscattato poi quest'anno è arrivato Duccio degli Innocenti, ennesima giovane promessa del calcio italiano. Questo classe 2003, quindi 21 anni per lui, arriva in prestito dall'Empoli con diritto di riscatto e contro riscatto. Un po' i termini che abbiamo ottenuto l'anno scorso dall'Inter per Francesco Pio esposito. Duccio arriva dall'Empoli dove nelle giovanili ha totalizzato 78 presenze, 15 rieti e 4 assist e l'anno scorso ha giocato nell'Ecco totalizzando 29 presenze facendo il suo debutto nel calcio dei grandi. Quindi ben arrivato Duccio e avanti tutta! Sono arrivati inoltre Aurelio e Djankpata. È arrivato il 24enne Giuseppe Aurelio, esterno di sinistra che ha totalizzato con la maglia del Palermo 35 presenze e due retti. Sembra essere un giocatore veloce ed utile, quindi benvenuto caro Giuseppe e avanti tutta! Khalid Djankpata è un nuovo Aquilotto! Benvenuto Khalid! Sempre che il nome si pronunci così. Classe 2005, questo neo Aquilotto 19enne arriva a titolo definitivo dall'Everton. Centrocampista dotato di ottime qualità tecniche, dinamismo e grandi doti atletiche, Djankpata è un giocatore offensivo capace di ricoprire più ruoli nello scacchiere della mediana, forte della sua grande dutilità e senso della posizione. Quindi speriamo che possa essere un altro Cuda, se non ancora migliore. Tra l'altro vanta già una presenza nella nazionale Under 19, quindi sembra essere un giocatore di sicuro talento. Una scommessa che potrebbe ripagare ottimi dividendi, così come ha fatto Cuda di recente appunto ceduto al Parma. Avanti tutta! E come vi avevo preannunciato è giunto quindi il momento di parlare di tecniche d'acquisto creative e di cessioni di lusso, visto appunto che abbiamo menzionato l'accessione del giovane Cuda al Parma. Cuda che fa parte delle acquisizioni della società bianca di quest'anno, perché era arrivato con la formula del prestito e l'obbligo e il diritto di riscatto, e quest'anno dopo averlo riscattato è diventato giocatore di proprietà e prontamente è stato ceduto al Parma. Tra l'altro, onore al merito perché otteniamo quel che negoziamo e a livello di negoziazione sia in fase di acquisto che in fase di rivendita, lo Spezia ha fatto fiorfiore di transazioni. In primo luogo, menzionavamo poco fa Nicolao, che è stato un po' merce di scambio per due giocatori in due reparti, tra l'altro fondamentali per lo Spezia. Lo Spezia, se sempre vedete, è stato un po' leggero lì davanti. È arrivato Soleri, i primi commenti, non è un bomber, non è un bomber, non è un bomber. Adesso vedremo come si evolverà il campionato, perché anche l'anno scorso Moro sembrava essere partito sotto i migliori auspici e poi si addormì. Ma Soleri ha fatto un gran gol a Salerno, la doppietta addirittura a Salerno con la Salernitana nella partita di Coppa Italia, ma soprattutto i movimenti, l'attitudine, la determinazione. E quindi sembra essere un giocatore importante per il reparto avanzato della Rosa a disposizione di mister Luca Dancelo. Non ha particolarmente brillato nella partita col Cosenza, però anche perché è stata una partita complessa. Quindi ora abbiamo un attacco costituito da cinque titolari. Adesso finiremo poi di evidenziare le entrate e le uscite di quel reparto. E con la cessione di Nicolao è arrivato anche Aurelio, un esterno di sinistra fondamentale a fronte delle caratteristiche tecniche, della dedizione, della volontà, del carattere del ragazzo, ma anche sulla base del fatto che abbiamo un Reza che è rimasto, che si è spalmato il contratto sulle restanti stagioni in maglia bianca e che è troppo spesso infortunato. È un lusso per la Serie B, risolve le partite quando entra perché fa la differenza, segna anche, ma è a disposizione del mister troppo poco dissovente. Così come Cuda, perché si è infortunato l'anno scorso, è rientrato, non era, perlomeno non pareva essere il giocatore che era all'esordio e ciò nonostante è stato ceduto a peso d'oro al Parma, non soltanto per la valutazione di oltre, mi pare, 4 milioni, se non sbaglio, che gli è stata data, ma permettendo allo Spezia di ottenere anche un ulteriore attaccante di peso ed esperienza che si andava cercando da svariate stagioni a questo punto. E non solo fu acquistato per 350 mila euro e lo si è rivenduto ad un valore di oltre 4 milioni, ma si ha pure la possibilità di tenerlo in maglia bianca per la stagione 2024-2025. Tanta roba! Quindi complimenti alla gestione dirigenziale, societaria e anche alla gestione così parsimoniosa e forzata della proprietà che ha portato a fare di necessità virtù. Perché è vero che se si ha soldi è più facile fare soldi, ma è altrettanto vero che non serve avere soldi per fare soldi. Siamo nelle mani di investitori collaudati, perlomeno in altri ambiti della vita, in altri ambiti professionali, quindi continuiamo, dico io, consiglio io, ad avere fiducia nelle capacità degli esperti che attraverso i loro errori stanno imparando a selezionare sempre meglio le persone alle quali affidare determinati incarichi. Adesso parliamo, analizziamo insieme, gli scambi in movimenti del reparto avanzato della Rosa a disposizione di Mr. Luca D'Angelo. Per quanto riguarda l'attacco, sono partiti Antonucci, estendiamo un velo perché ne ho parlato più di quanto il giocatore meriti, che gli si dedichi tempo ed attenzione. È partito Strelez, un altro che ha trovato poco spazio e continuità, però si è deciso di silurarlo, cioè di mandarlo in altri lì di Amen, e è partito anche Krollis alla Triestina. Sono invece arrivati, anzi è ritornato, Francesco Pio Esposito. Oh ma! Continuando ad andare a rafforzare la nostra linea d'attacco, la linea offensiva, offrendo sempre più alternative a Mr. Luca D'Angelo, torna Francesco Pio Esposito. Oh ma! Io sono davvero entusiasta per il ritorno di questa giovane promessa del calcio italiano. Dopo aver accumulato 38 presenze e 3 reti nella stagione scorsa, quella 2023-2024, e dopo aver detto di no ad alternative valide, quali il Torino in Serie A e la Samp in Serie B, torna ad indossare i nostri colori, proprio Francesco Pio Esposito, il fratello minore dei tre, e sono veramente carichissimo. Speriamo che quest'anno sia la stagione buona per lui, per esplodere tutte le sue capacità, tutto il suo talento, dopo essere maturato a vista d'occhio nel corso della stagione scorsa, quando si è anche fatto carico di responsabilità che all'esordio non avrebbero dovuto essere sue, quindi bentornato Pio, abbiamo fede in te. Avanti tutta! Sono davvero entusiasta, per qualche ragione mi piace particolarmente Francesco Pio, per il ritorno di questa giovane promessa del calcio italiano. E parlando di giovani, appunto, è stato promosso dalla primavera di Giorgio. Speriamo trovi spazio e che possa appunto crescere in maglia bianca. E poi, tornato Soleri, è tornato Edoardo Soleri. In arrivo dal Palermo, per lui 93 presenze e 19 reti tra la stagione del 2021, le stagioni comprese dal 2021 al 2024. Arriva a titolo definitivo, dopo essere già stato in maglia bianca, nella stagione 2017, dove in prestito dalla Roma totalizzò soltanto 5 presenze. Non è l'attaccante di peso, diciamo che noi tifosi aquilotti ci speravamo, magari potrà ancora arrivare quello, però allo stato attuale è tornato Edoardo, quindi bentornato nel golfo e avanti tutta! Ed infine, in chiusura del mercato, dando più esperienza al reparto, più peso, più centimetri al reparto, è arrivato anche Antonio Ciolac! È arrivato Antonio Ciolac! Ecco, finalmente, no? L'attaccante esperto che tanti tifosi aquilotti andavano cercando. Trentenne arriva dal Parma, che l'anno scorso ha vinto il campionato cadetto. Mi pare che la stagione scorsa abbia collezionato 22 presenze e 3 reti, ma vanta 108 reti nelle sue 259 presenze tra i professionisti e 36 assist. Quindi non rompiamo le balle, è arrivato uno che ha esperienza, ha potenza, vede la porta, sicuramente andrà ad arricchire un reparto offensivo come lo Spezia non ha avuto negli ultimi anni, perché abbiamo 5 attaccanti e tutti e 5 potrebbero essere titolari. Quindi benvenuto Antonio e avanti tutta! Arrivati alla conclusione di questa disamina del mercato delle aquile, non mi resta che ringraziarvi per il tempo che avete dedicato anche a questo video. Grazie infinite davvero! Vi invito gentilmente a farci sapere nei commenti cosa pensate del mercato condotto dalla società bianca, cosa pensate di questa nostra analisi delle varie transazioni e se ci siamo dimenticati di qualcosa o di qualcuno, anzi Zurkowski, so di essermi dimenticato di Zurkowski, un altro di quelli che è tornato felicemente alla sua amatissima Empoli e è bene così che si sia levato dalle scatole. Vi ricordo ragazzi che sono svariate le rubriche presenti sul canale, non soltanto a proposito dello Spezia. A proposito dello Spezia abbiamo le live reactions, abbiamo Spazio al prossimo, abbiamo Spaziamo sullo Spezia e molti molti altri contenuti. Quindi gentilmente vi invito per sostenere la creazione di questi contenuti ad iscrivervi al canale e vi invito a condividere questi video con chi pensate possa essere interessato. Grazie mille ancora e alla prossima. Come sempre, avanti tutta!